buongiorno sono luigi della tizia automobili volkswagen di arezzo sono qui per per presentarvi la nuova volkswagen taigo il nuovo crossover sportivo della linea volkswagen questa è una versione r line possiamo notare le finiture della calandra molto pronunciata il faro ifu matrix praticamente che ci permette di avere un'ottima visibilità sia in città sia in aperta campagna la vettura verrà presentata presso la nostra concessionaria di arezzo in via di pescaiola sabato 19 e domenica 20 febbraio vi aspettiamo tutti per provare i nuovi sistemi di sicurezza della vettura che sono il line assist il front assist l'adattive squeeze control praticamente il riconoscimento pedone il sensore di stanchezza tutti questi nuovi sistemi di nuova concezione per una vita una guida più autonoma e sicura nel nostro uso quotidiano della vettura praticamente